Bentornato negli studi Temporadio da Adriano Roverselli che è il direttore del Ciclo Club 77 di Guidizzolo. Buongiorno direttore. Buongiorno a voi radioascoltatori di Temporadio. Grazie a lei di essere venuto. Noi invitiamo sempre gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo che il numero per mandare gli sms come anche messaggi whatsapp è il 348-3188-339 poi siamo in direttore streaming sulle pagine Facebook e Twitter del Gazzettino Nuovo Temporadio e su YouTube Temporadio Live. Allora, dunque cominciamo col parlare del... diciamo subito che è una società sportiva che si occupa di bimbi e ragazzi diciamo così dagli anni, da che anni? Dai 6 ai 12 anni. Dai 6 ai 12 anni. Le categorie sono quelle insomma. Ricordiamo che dà l'abbigliamento e anche incomodato d'uso la bicicletta. E quindi uno non deve tirare fuori i soldi, chiede un elettrocardiogramma, ecco appunto un certificato. Sì, infatti noi siamo forse una delle poche realtà che possiamo permetterci di non far pagare nessun tipo di tassa, di iscrizione tanto meno di materiali perché abbiamo fortunatamente degli sponsor e ne abbiamo tanti di Castiglione che ringrazio visto che siamo qua al paese, diciamo loro, di conseguenza penso che sia una sorta anche di scuola di vita perché il ciclismo è veramente una disciplina di rigore perché alla fine è anche crudele come sport, tante volte lo diventa. Però vedo che i ragazzi che sono passati da noi in questi 40 anni, vedo che sono diventati dei bravi ragazzi. Ecco, non mi risulta che siano entrati in disagi oppure altre cose che purtroppo la società nostra può creare. Esatto. Quindi questo è già un vanto che mi sento di portarmi nel cuore perché alla fine quando vedo i ragazzi che crescono, che vanno avanti ovviamente anche con l'attività di lettanti, di un'ora così, dico questo è veramente un grande successo per noi. Assolutamente. Ascolti, come è andata la stagione ciclistica dei giovanissimi? La stagione ciclistica sta andando benissimo, adesso sono diversi al mare, ne ho un paio infortunati ma veramente stiamo andando veramente bene, risultati che poi non sono poi la linfa vitale per noi perché a noi interessa che siano educati, che si rispettino e che abbiano voglia di fare e di fare sport perché come ho detto prima se fanno gli allenamenti come facciamo due volte alla settimana e alla domenica la corsa quando arrivano fine settimana sono stanchi e vanno a letto, non vanno in giro a combinare guai. No, no, veramente sono contento. Poi parleremo anche di altri argomenti, ne abbiamo veramente diversi di argomenti da trattare perché li sono segnati tutti, per non dimenticarmeli. Assolutamente. Tra l'altro state seguendo anche gli atleti di handbike per caso. Sì, quest'anno abbiamo quattro tesserati handbike di cui non l'ho scritto qua ma ve lo dico perché anche questo fa parte di un successo che abbiamo ottenuto in questi giorni. Una ragazza di Castelgofredo Angela De Gregorio porta la maglia rosa dal Giro d'Italia handbike, quindi spero che la porti fino all'ultima tappa adesso ne ha già percorse cinque e dovrebbero finire penso il mese prossimo con altre due. Ecco, ed è un qualche cosa che fa tornare a sentirsi vivi l'handbike per chi ha dei problemi. Pensiamo a Zanardi, poi lasciamo stare l'incidente che ha avuto, il malore che ha avuto, che quello non c'entra però veramente era tornato proprio a vivere. Difatti quando ne ho parlato con i miei sponsor mi hanno detto vai, vai pure perché questa è una bella iniziativa. E veramente stanno dando anche loro delle soddisfazioni perché queste persone hanno bisogno di muoversi, di fare qualcosa perché la loro vita continua anche se sono stati più sfortunati di noi. Esatto, e sono atleti in tutti i sensi, noi crediamo magari con la bici di stare noi non allenati. Di stare dietro loro non ci siamo, stiamo dietro. Ho provato il giorno sulla ciclabile, c'era anche la Porcellato che è campionessa mondiale, olimpionica, ma a 40 orari io a un certo punto ho dovuto staccarmi, hanno veramente una forza incredibile. Il Padre Eterno li ha tolto da una parte ma li ha donato dall'altra. Infatti, è vero. Ecco, parliamo anche di gare organizzate a Villastrada, a Bozzolo, a Guedizzolo. Sì, quest'anno direi che abbiamo fatto l'unplay perché andrò a finire con dieci gare organizzate, ne ho già organizzate tre. I sindaci e le amministrazioni comunali si stanno muovendo, dopo il Covid ovviamente c'è un po' di entusiasmo per vedere qualcosa di bello e di attività giovanile perché alla fine sono dei costi che si possono permettere. Insomma, quindi ho organizzato una gara a Villastrada, una a Bozzolo, l'ultima qua il 26 di giugno a Guedizzolo, poi ne ho in programma altre, il 14 luglio, la notturna che ha 29 anni, che la organizziamo questa per la fiera. E questa veramente mi impegna, vale come due corse perché di notte ci vogliono tante persone, poi insomma dobbiamo stare attenti, ci sono tanti problemi. Quest'anno poi facciamo l'arrivo sull'ex statale, quindi sarà veramente una bella festa. Speriamo che vada tutto bene, ecco. Poi mi hanno chiesto, beh, Castel Goffredo, anche questa il 7 di agosto, il 14 a Pegognaga che me l'hanno confermata proprio la settimana scorsa. Questo grazie al Comitato Provinciale di Mantua, perché sono loro che mi assegnano questi incarichi. Eh sì, ma perché anche Adriano Roversagliardile che carica anche a livello della federazione, o sbaglio? Sì, ce l'avevo. Adesso ho dovuto, per così dire, staccarmi, perché sono anche assessore allo sport a Guidizzolo, quindi per incompatibilità ho dovuto, per così dire, un po' lasciare la federazione, anche se è stata veramente una bella esperienza. Io sono stato vicepresidente a fianco di Cordiano Dagnoni, che adesso è il presidente nazionale, è una persona in gamba che veramente mi ha lasciato, mi ha dato veramente dei bei input per continuare, perché è uno veramente che ha voglia di fare, di impegnarsi al massimo. Comunque poi, l'Aversario conosce tutti, in realtà. Sì, sì. Ne abbiamo una a Bagnole San Vito, questa fa parte di un trittico femminile, che a livello nazionale è una tra le più importanti, quindi la finiamo il 18 di settembre. E poi Quistello, che dovrebbe essere quella che chiude, che era 100 km di nuvolato di Quistello, che era una vecchia, si chiamava la nonnina delle corse mantovane. 100 km? Sì. Eh beh, insomma, non male, parliamo di ragazzini, eh, cioè non parliamo di adulti. E allievi, qui sono allievi che hanno sui 16 anni, quindi cominciano ad essere grandi cieli. Il femore ce l'hanno già abbastanza sviluppato. Certo, quindi sì, sì. Perché, tra l'altro, anche lì, non vi affidate all'improvvisazione. Adesso non è un discorso me... Beh, può anche essere... Fidatevi di che ha esperienza, come Adriano Roverselli. Magari uno prende la bici un po' più grande, perché poi dopo il figlio cresce. Sì, sì. No, ecco, un po' come si faccia con le scarpe, no? Prendevi un po' di numeri più lunghi, tanto poi dopo le riempi. Però, veramente, fatevi dare la bici giusta. Tra l'altro ve la dà anche in comodato d'uso, quindi gratis, giusto? Sì, noi ne abbiamo di diverse misure, ne abbiamo una trentina, abbiamo di diverse misure, dal 20 che è la più piccola, al 28. E quindi, si sa, ma come consiglio a tutti, anche agli amatori che cominciano, quando mi dico, ah, ho trovato un'occasione, sì, ma guarda che deve andarti bene, perché se vai a prendere il caffè vanno tutte bene, vanno bene anche le grazielle. Esatto. Però, se devi fare un po' di strada... Perché è una gran bici la grassiera. Sì, la bici, sì, la grassiera era veramente indovinata a quell'epoca e la usano ancora adesso per le spese, perché ha i cestidi, è molto comodo. Cioè, per fare una gara, non so. No, vabbè, però è giusto che abbiano le misure, insomma, almeno le caratteristiche che servono per fare un po' di strada. Altrimenti fa male la schiena, il collo, le braccia, insomma, deve essere, non dico su misura, però che si avvicini alla morfologia della persona che la usa. Ascolti, direttore, allora io... E assessore, eh, ci siamo anche dimenticati, anche assessore. Mi fermerei un attimino con il direttore del Ciclo Club 77 di Guidizzolo, ci troviamo tra un paio di minuti. Invito tutti a preparare carta e penna, perché abbiamo detto... In compagnia di Adriano Roverselli, direttore del Ciclo Club 77 di Guidizzolo, seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Stavo guardando un messaggio che mi piace moltissimo, perché ci sono due generazioni qua, eh. Va bene, allora, adesso tra poco daremo voce proprio agli ascoltatori. Ecco, ci sono anche delle gare in programma, no, adesso, da organizzare in futuro, appunto, ne ha parlato. Pegonia Gambagnano San Vito Quistello, lei ha ringraziato gli sponsor, perché il ciclismo è un cosiddetto sport povero. Io detesto queste espressioni, però, nel senso che sì, prendi la bicicletta, ne inforchi e vai. D'accordo, una volta che hai comprato la bicicletta. Però, per fare una gara, occorre un baradano di organizzazione. Prima non solo, poi, attrezzare un ragazzino dalle scarpe al casco, abbigliamento, invernale, estivo, quello che serve. Perché poi non possiamo mandarli in giro. Io vedo anche tutte le società che vengono a gareggiare, sono tutte ben coordinate e coordinate sia nelle organizzazioni che anche nell'abbigliamento. Quindi non si può più arrivare lì con una scarpa e uno zocolo, insomma, è bene che ci sia... Ma anche, mi scusi se l'ho interessa, le biciclette stesse, cioè se io provo a prendere la bicicletta del nonno, un bel acciaio pesante, eccetera, poi dopo provo una mountain bike, poi provo una bici da corsa, io mi accorgo volta per volta che vado più veloce, che faccio una fatica. Adesso i mezzi si sono evoluti in una maniera, anzi forse esasperata, perché non parliamo di ragazzini, ma negli amatori ci sono biciclette addirittura con l'assistenza elettrica, che viaggiano come dei treni. Io lì non sono tanto d'accordo, perché io preferisco fare un po' più di fatica, che non... Vabbè, con l'età sicuramente sarà la mia prossima spesa, quella elettrica, però finché posso vado pedali, vado con la forza della mia persona. Ma ci riveli una cosa, perché nelle crono ci sono quelle ruote piene? Ma perché nella galleria del vento hanno studiato una serie di, così dire, di evoluzioni, no? Con un passaggio, diciamo così, di aerodinamica, che sembra che siano molto più efficaci nella penetrazione dell'aria, appunto, specialmente quando hanno il vento contro, se queste ruote lenticolari, chiamiamole, le usava Mosè, se vi ricordate, ancora negli anni Ottanta, quindi avevano studiato nelle gallerie del vento che facevano un po' da, diciamo così, da supporto per tagliare l'aria, insomma, questo era il scopo. Se c'è il vento attraverso sono dei problemi. Eh sì, quello sì, il vento attraverso non va bene perché ti fa anche cadere, eh? Eh sì, infatti. Allora, posso chiedere una cosa anche, dai, parliamo un attimino, lei è assessore, no? Quindi parliamo anche dell'incarico comunale, l'assessorato allo sport e alle associazioni? Sì, sono un assessore con la giunta a Meneghelli e devo dire che mi sono impegnato subito ancora i primi mesi della, diciamo, della nostra, del nostro incarico perché a Vidizzolo ci sono tante associazioni che lavorano bene e ovviamente c'è una forza di volontariato incredibile, però c'erano stati un po' dei, così, dei, diciamo, dei dissidi, dei piccoli screzzi che poi il Covid ovviamente ha fatto la sua parte e ha tolto anche entusiasmo di fare. Io per quello che ho potuto, che farò, cercare di coordinare e di riordinare un po' le cose, anche se ho visto che stanno veramente lavorando bene le associazioni. Quello che sono state le feste organizzate hanno dato veramente dei numeri incredibili. Le ha aiutate anche il tempo, perché non ha mai più avuto quest'anno, quindi siamo stati anche fortunati, l'unica sfortuna che ha avuto, diciamo, il GEM, che è una società che organizza anche lei delle manifestazioni, purtroppo quella sera lì c'era una brutta serata e non ha fatto niente, è stata quella. Però dopo il resto mi sa che veramente c'è un entusiasmo e voglia di fare. Io li ho spronati per quello che ho potuto e lo farò ancora, perché è giusto che Vidizzolo non sia ultima a nessuno, insomma. Assolutamente. Ascolti, leggo i messaggi. Roversalli sei il numero uno per la passione della bici. Grazie, questo è sicuro. E questo mi piace, guardi, perché Adriano sei un grande, dopo il figlio ti porto la nipotina. Che età puoi iniziare? Quindi qua più generazioni, eh? Qualcuno ha portato il figlio, adesso porta la nipotina. Beh, noi possiamo tesserarli dei sei anni in poi, fino ai dodici. Avrei bisogno di qualche ragazzino perché ne ho uno solo di dodici anni, quindi se c'è qualcuno che ha voglia di mettersi in pista sono pronto domani mattina. Assoluto. Preparate carta e penna che poi diamo i riferimenti per il ciclo club 77. C'è una squadra di triathlon, chiedo, no? La squadra di triathlon, penso che sia Asola una delle più importanti qua della provincia di Mantua. Perché io avevo un tesserato nostro che mi ha chiesto appunto di passare a questa disciplina. e mi ricordo che è una cosa pazzesca. E penso che siano Asola questi, non so se sono della federazione o di altri enti, ecco, non lo so. Ho visto addirittura, ma come fanno? Ce lo spieghi lei. Dunque c'è una parte in nuoto, poi c'è una parte in bicicletta, ma sono 110 km, è anche lunga. E poi c'è una maratona, 44 km. Durante la pausa in bicicletta, cioè la parte in bicicletta, passano dei vassoi e si mangiano gli spaghetti. Come fanno? Che biciclette hanno? Bisogna andare a vedere per credere. Il Bardolino, ero lì presente, veramente ho visto delle cose, veramente. Nelle scarpe addirittura avevano le barrette, le scarpe. Ho visto proprio, adesso non dico gli spaghetti che fai su, però mangiano, mettono un vassoio sul manubrio. Sì, poi si cambiavano le scarpe da corse, diciamo, con le tacchette così e quelle, diciamo, da tennis, per correre a piedi. E avevano dentro le barrette incredibili, pezzi di mela. Allora, quindi va bene. Allora, vediamo, altri messaggi ancora. Raverselli, quando hai fatto una gara a Castiglione, chiedono. La gara a Castiglione l'avevamo messa in programma il 3 di aprile, l'unione era importante, però c'era stata una riunione di sindaci e erano quasi tutti d'accordo. Poi la cifra che avevamo preventivato era piuttosto consistente. Il sindaco, che è ancora attualmente lui in carica, Volpi, mi ha detto, guarda, non so se riusciamo, perché abbiamo le elezioni, siamo un po' tirati, quindi non so, ne riparleremo l'anno prossimo. Insomma, io sono disponibile, anche se ci sono società importanti qua a Castiglione che possono organizzare. Io sono disponibile, però ripeto, se qualcuno di Castiglione ha voglia di fare, io gli do una grossa mano, ma sarei ben felice se dovesse organizzare una gara, un castiglionese, insomma. Eh sì. Allora, altro messaggio, se metto un po' di zucchero e limone nella borraccia non è doping, vero? Ma assolutamente no, anzi. È naturale. Direi che forse è la miglior cosa. Sì, esatto. Se ci aggiungi un po' di sale e potassio si può? Ma sì, adesso che fa caldo sì. Allora, una volta tutti davano scarpe, pantaloni, borse gratis. Oggi siete gli unici che lo fate, ancora, e siete bravi, dice Antonio Desenzano. È vero? Appunto, ripetiamo, una sacca con abbigliamento estivo, abbigliamento invernale e bicicletta incomodato d'uso. Sì, difatti, i costi li abbiamo, però fortunatamente con gli sponsor che abbiamo riusciamo a tenere in piedi questa società ormai da 40 anni, perché alla fine, anzi no, 45. Allora, ai ragazzi di 10 anni cosa consigli di mangiare prima di una corsa? Anche lì, sfatiamo il mito che gli atleti non mangiano prima delle gare, specialmente quelli ciclisti che mangiano. No, beh, sarebbe bene che mangiassero qualcosa di leggero, non so, fette biscottate con la marmellata, cioè, non so, anche qualche pezzo di banane, anche se è poco digeribile. Il latte io lo sconsiglio sempre perché è quello che ha dei tempi, che ha dei tempi, sì. Dopo se uno vuole mangiare, se la senti di mangiare un piattino di pasta asciutta va benissimo, però tre ore prima almeno della gara. Sì, perché dopo impegna la digestione, più che altro, e porta via sangue i muscoli. Sì, perché io dopo un chilometro sono in un lago di sudore, mio figlio è 11 anni, no, è per l'età, che è proprio la carta d'identità, questo succede anche a me. È tutto a colpo della carta d'identità, esatto, vai a protestare in managrafe, no, non si può. Allora, vediamo ancora, Adriano, si potrebbe organizzare un allenamento in montagna, che fa pure più fresco, ma anche gli altri però devono mettere a disposizione auto e furgoni. Il parente dice genitori, probabilmente, ecco, i genitori possono dare una mano, aggredite la mano. Sì, è come no, io ne ho un paio che veramente mi portano fuori i ragazzi, anche su strada, anche se, ripeto, quando torno dico mi è andata bene anche oggi, che non è successo niente col traffico che abbiamo. Cerchiamo di proteggerli più possibile, i genitori davanti, i ragazzi dietro, la miraglia, insomma, cerchiamo di... Però quando torno veramente dico mi è andata bene anche oggi, perché purtroppo sulla strada ne succedono tutti i giorni. Allora, lo dica, non buttate acqua sui ciclisti, per din di rindina, a momenti cado, dice un ascoltatore che è evidente, sì, c'è questo uso qua che non si capisce. Sì, pensano di fargli un favore, invece tante volte... Ma provatevela a prendere voi, anche quando fa molto caldo, fai così, cioè, adesso non ha, dai solo fastidio. Allora, mio figlio vuole fare ciclismo, ma ho visto i prezzi delle bici, come faccio a prenderne una? Ciclo Club 77, l'abbiamo detto. Sì, noi abbiamo di diverse misure, gliela possiamo far provare quando vuole, insomma. Adesso, a chi ha scritto questo messaggio, prepara carta e penna, adesso diamo i riferimenti per il Ciclo Club 77, tra l'altro di Guirizzola, ma voi seguite però tutti quanti. Sì, sì, di tutti i paesi quali mitrofi. Per cui noi di Pozzolengo abbiamo un salame che ti fa vincere il Tour de France, va bene. Va bene. Allora, perché si parla del giro del Tour e mai della Vuelta, che è bellissima, e mai delle gare dell'Est, che Marezco vince? Eh, Marezco lo conosco bene, un ragazzino. Ti pareva che lo conoscesse? Un bel ragazzo, insomma. No, correva con uno dei miei, che si davano sempre delle batoste anche incredibili a livello proprio di volate, perché aveva un bel velocista. Però, diciamo, il ciclismo a livello mondiale proprio si è espanso in maniera macchia d'olio, anche con i paesi che avevo visto, allora sono partiti, diciamo, il giro, i campionati del mondo sono stati in Arabia Saudita e quindi, voglio dire, ci sono stati, ci sono stati dei punti in cui non si pensava che il ciclismo arrivasse fino lì. Invece è arrivato. Ecco, c'è arrivato, è come. È arrivato. E poi sta anche all'astuzia dell'atleta a un certo punto scegliersi la gara, la categoria, quello che è, insomma. Anche le mini tappe, chiamiamole, di tre a quattro giorni, insomma. Tanto, un concetto che gli sportivi capiscono, chi non lo è, no. Chi, il primo, anche il campione del mondo, è campione del mondo perché non c'è nessuno che è andato più forte di lui. Ma può esserci da qualche parte del mondo, eh? Comune. Anzi, c'è sicuramente. Eh sì. Adriano, si può anche fare una convenzione col velodromo? Chiami il sindaco di Montichieri che è disponibile come persona. Ah beh, per... Chissà, io mi auguro che lo aprono domani mattina, ma ci sono stati dei problemi. di, di, non di gestione, di... Però si sta mettendo a posto. Sì, 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 infatti si spera che si apra la svetta, almeno per la stagione prossima invernale, insomma, sarebbe il massimo. Anche come strategia, ti credo che sia... È un bellissimo impianto, solo che ha avuto dei problemi, dopo l'hanno ricoperto, pioveva dentro, insomma, tutta una serie di problemi legati proprio alla struttura. Poi, basta un certificato agonistico o amatoriale? Ma io, a noi serve anche quello non agonistico, però ovviamente richiede, richiede, diciamo, l'elettrocardiogramma, anche se non è agonistico. Sì. Non può più rilasciarlo il medico di base. Quella amatoriale ti fa fare aspirometri, qualcosa di più, sì. Io, dai sette anni in poi, li consiglio quella agonistica perché è, insomma, un po' più, così, diciamo, un po' più dettagliata la cosa. Anche se non hanno bisogno, però, insomma, bene o male, i ragazzini fanno degli sforzi che, insomma, è bene tutelarsi. Comunque tranquilli perché i ragazzini non bevono, non fumano, eccetera, eccetera, quindi lo passano praticamente sicuro. E poi è giusto che ci sia questo esame, questo esamino fatto bene perché, giustamente, se c'è qualcosa, anche tanti piccoli soffi al cuore, li riscontrano dalla visita medica agonistica. Esatto. Allora, siamo in chiusura, avete preparato carta e penna? Allora, lanciamo un appello, tanto per cominciare, lei ha bisogno di ragazzini e ragazzine soprattutto, perché li prende tutti, di che età? Beh, se arrivano di sette anni, bene, se ne arrivano di dodici, meglio ancora. Benissimo, ok. Per contattare il Ciclo Club 77, come facciamo? Allora, io abito a Guidizzolo, in via Don Sturzo, 36, la nostra sede è lì, e rispondo al 320-7243-912. La mail è cicloclub77-libero.it. Perfetto, grazie ad Adriano Roverselli, direttore del Ciclo Club 77. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. E anche agli ascoltatori. Per la tua pubblicità, scegli la professionalità.